La maggioranza è bene in casa, questa maggioranza è bene in casa e chi è all'opposizione? Perché nel momento in cui a gennaio i candidati sindaci hanno detto di sostenere questa amministrazione senza avere nessun potere, senza avere nessuna delega, senza avere nessun assessorato, poi invece a febbraio abbiamo già visto con le nomine e con le poltrone, allora i cittadini devono capire per quali sono stati i motivi che hanno portato questi ex candidati sindaci che in 15 giorni sono riusciti a trovare un'intesa che in due anni e mezzo non hanno mai trovato e precedentemente prima della tornante elettorale erano gli antagonisti naturali con l'attuale sindaco Francesco Benicaz. Quindi è un atto esquisitamente politico per dare dignità alla politica vettese per far sì che i cittadini capiscano le motivazioni che hanno sostenuto me e i miei colleghi all'opposizione e le motivazioni che sostengono invece gli ex candidati sindaci che hanno tradito il loro mandato elettorale passando alla maggioranza. Perché questa mozione? Perché i cittadini hanno il diritto di essere amministrati da chi hanno votato in questo caso invece è stato tradito il vincolo fiduciario, il vincolo di mandato che i cittadini ci hanno conferito e quindi è necessario tornare alle urne. Tra l'altro insomma con questa maggioranza è impossibile approcciare a qualsiasi discorso costruttivo dato anche agli atteggiamenti arroganti del primo cittadino e poi dato fondamentale capire il perché i due ex capogruppi hanno deciso di transitare in questa maggioranza pur non condividendone il programma politico e quindi capire anche quali sono state le ragioni che hanno fatto sì che queste due persone abbiano così tradito il vincolo fiduciario dei cittadini. Il sindaco parlava di 1.200.000 euro in cassa, ci sono o non ci sono questi soldi? Si tratta di un foglietto che puntualmente ogni anno ci viene sventolato in faccia, si tratta di una somma vincolata per cui non è possibile, cioè serve occorre per pagare i dipendenti, per sostenere quelle che sono le spese correnti dell'ente. Ragion per cui questa somma non può essere utilizzata per far altro, per far fronte a quelle che sono poi esigenze extra dell'ente comunale.